Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Intanto Giorgia Meloni va talmente forte che addirittura oggi in Veneto ha rubato mezza lega a Salvini, a Zaia addirittura. Hanno votato quello che voleva lei. Cos'è che non capiamo? Ma insomma se ha rubato mezza lega a Salvini sono sempre affari loro. No, piuttosto certo lo sguardo dell'Europa e anche del mondo perché all'immagine hanno fatto il giro del mondo, non solo quelle, i quadri di sgarbi. Insomma sono cose che devono un po' preoccuparci perché noi secondo me largamente anche come opinione pubblica sottovalutiamo, veramente sottovalutiamo il segnale che può essere dato ad un'opinione pubblica europea. La prendiamo troppo alla leggera. Quando sento un ministro degli interni che dice, eh ma quando sono tanti è meglio osservare che reprimere. E' soltanto che sui reparti erano anche di più, lì ha represso. Qui non si capisce la scala dei problemi, la serietà di questi problemi. Io ho sempre detto, o anche i miei, ho sempre detto guardate non confondiamo questa nostra destra con le destre improvvisate spesso che sono venute fuori nel mondo. Certo, certo anche la nostra destra ha fruito di questa ondata mondiale diciamo, ma è diversa, è diversa. Ha un retroterra culturale, politico da cui non può staccarsi, dobbiamo saperlo. Qual è questo retroterra? È un retroterra che viene dal fatto di non aver condiviso la Costituzione. Punto. Questo è il punto. Massimo Magliari. Non è proprio così, lo dico con molto rispetto nei confronti di Bersani, ma non è proprio così. Nella Costituente hanno lavorato, preso posizione, lasciato delle tracce molto importanti dei grandi personaggi che hanno condiviso l'impostazione, l'eredità che veniva fuori dalla cultura politica precedente, del periodo fascista. Penso mortati, penso a tutti, no no, faccia io l'ascoltate con molto silenzio, rispetto, faccia possibili altrettanto. Hanno lavorato personaggi che hanno seminato gli articoli più importanti della Costituzione, che sono quelli che riguardano la creazione di sindacati, il diritto di sciopero, tutta roba che è figlia della cultura corporativa. All'epoca può non piacere, ma questa roba nasce, i contratti di lavoro nascono da quella cultura precedente. E dire che la Costituzione è antifascista vuol dire rinnegare una parte molto importante di contenuti della Costituzione. Perché può essere antifascista dal punto di vista dell'etichetta, del battesimo, ma dal punto di vista dei contenuti non è affatto così. Lei lo sa perfettamente bene, perché è una persona molto attenta e credo che sia una persona intellettualmente onesta. Sa perfettamente bene che non è così, assolutamente non è così. Ma senta, io posso riconoscerle che non tutto quello che ha prodotto o anche immaginato e ideato una cultura corporativa sia stato buttato via del tutto. Questo non posso dirlo, che lei mi venga a dire che la Costituzione che nasce direttamente dai partiti e dalle forze che hanno combattuto il fascismo non sia una Costituzione antifascista non solo nelle norme transitorie, ma in tutti gli articoli di questa Costituzione. quando l'articolo 3 parla ancora, non lo scriveremmo oggi, di razze, cosa intende? Cosa intende? Chi ha fatto le regi razziali? Ragazzi. Allora, diceva però Senatrice Ronciulli, diceva Bersani, attenzione non ha fatto solo l'esempio di quello che è successo a Calarenzi, ha detto anche quello che è successo a Sgarbi, ha fatto il giro del mondo la notizia, no? E' una qualità di questa classe dirigente, mi sembra di capire, dice Bersani, che prescinde pure da quello che stanno facendo. C'è un problema all'origine delle vostre scelte? Se si vogliono usare in maniera strumentale la risposta è sì, ma ovviamente per noi è un no, nel senso che quello che dice l'onorevole Bersani non trova poi aderenza nei fatti. A me il discorso che ha appena fatto l'onorevole Bersani è esattamente fuori tempo, come è fuori tempo il gesto di H a Larenzia. Perché non abbiamo bisogno di Bersani, con tutto rispetto, mi spiace, per dirci che siamo orgogliosamente antifascisti e per dirci che le persone ad H a Larenzia erano, per quel che riguarda la Runzulli, magari uso un termine molto forte ma degli imbecilli fuori tempo, perché si possono commemorare i morti ma si possono usare altri simboli e magari altri gesti. Non lo può paragonare per strappare un applauso al rave party dove abbiamo sì usato la repressione perché lì c'erano persone che rischiavano di morire, è scappato uno stupro, un morto, se non ricordo, c'erano feriti lì c'era una sicurezza sanitaria principalmente e sicurezza sulla vita dove era necessario intervenire con la repressione. Si caratterizza la destra per una concretezza, dice. Mi scuso, finisco solo perché ha parlato due volte e ho la possibilità di dire 30 secondi più. No, ma i concetti si possono concludere anche in fretta, non è che uno parla quanto ha parlato l'altro. La commemorazione di H. Larenzia non è successa questa volta e non c'è mai stata. Ogni anno con i vostri governi c'erano addirittura 3.000 persone e io non ho sentito Letta, Gentiloni, Draghi e altri quello che voi in questo momento chiedete al Presidente del Consiglio, perché tutta la dirigenza dei Fratelli d'Italia si è ampiamente distinta e ha preso le distanze da quello che è successo. Facciamo tanti passaggi invece dei passaggi lunghi. Mi dica se per fare un passo avanti se intanto Giorgia Meloni con questi atteggiamenti, con questi contenuti si sta mangiando anche il resto della destra perché lei diceva una cosa loro. In effetti sono voti che si spostano. Intanto vorrei dire che se lei mi dice che noi stessi abbiamo preso con troppo ottimismo quelle manifestazioni e non abbiamo applicato severamente la legge Mancino, mi trovo a nozze. Mi trovo a nozze. Se poi lei però non può dimenticare che in tutte quelle occasioni in Parlamento, con i pronunciamenti dei partiti, noi le abbiamo sempre condannate. Anche noi? No, la Meloni ha coperto col silenzio quella roba lì di cui adesso discutono in Europa. È un meraviglio. Io presiedevo l'aula e una senatrice di Fratelli d'Italia, la senatrice Pellegrino, ha condannato il gesto di atto alla Renza, quindi non venga a dire che la Meloni ha coperto perché una senatrice, ma per l'amor di Dio... Beh certo c'era tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, ma io non sono l'avvocato di Fratelli d'Italia, sa. Ma com'è che Berlusconi sentì il bisogno di mettersi... Di andare a donna. Di andare a donna. Com'è? Com'è? Mi spieghi. Ma perché scusi? Mi spieghi. Ma perché mette insieme le due cose? C'è così roba del passato. Perché mette insieme le due cose? Berlusconi sentì il bisogno di comunque ecco di mettersi là la breccata maierna. O fine di parlare di male assoluto. Allora Giacomo Mameli, poi torniamo uno scrittore che ci dà il suo punto di vista. Prego. Ma io mi sono spaventato certo della moltitudine perché erano davvero tanti, ma mi sono oltre al saluto fascista, hanno esibito i teschi, ma si può nel 2024 accettare che si esibiscano i teschi. Questa è una radice molto profonda che ancora non è stata sradicata e non la sta sradicando la Meloni, anzi la sta innaffiando. Magliaro. Vorrei sapere dove ha visto i teschi, francamente non lo capisco. Vorrei dire all'onore Bersani sempre, citare una frase che non è mia ovviamente. L'antifascismo, De Gasperi nel 1947, è un fenomeno politico contingente che a un certo punto per il bene e il progresso della nazione sarà superato da nuove solidarietà. Il commento a tutto questo non è mio, voglio scippare anche qui una frase di un per me del più grande storico italiano, De Felice. L'obiettivo di coloro che parlano di democrazia a rischio, come stiamo facendo qua da settimane a Vanvera, è quello di prendere voti che non ne riescono ad ottenere con argomenti politici. Qui c'è la storia di queste persone. Ricordando... Faccio vedere una cosa sui comportamenti concreti del governo, prego. Guardi, mi lassi dire, guardi che... Diciamola tutta però, eh. Sì, la diciamo tutta. Noi adesso stiamo parlando del fascismo, antifascismo. Ok. È un problema. Ma il problema non è questo. È uno dei problemi. Il problema è che quella cultura, quella logica, ha un elemento revancista, ideologico, che si scarica sulle politiche fino a portare indietro sul piano economico, sociale e del civismo il paese. Ma questo è un altro discorso. È uno dei problemi. Non ho mai detto che è a rischio la democrazia. Ma questo è un altro discorso. Non ho detto... Quello allora è un altro discorso. È un altro discorso. Sì, è chiaro. Però, diceva giustamente all'inizio Bersani, cioè coerente con quello che sta dicendo, dice guardate, il punto di questa destra è che non taglia con un passato che la porta a determinati comportamenti. Ma io ho sentito però l'onorevole Bersani dire in un'altra trasmissione di questa rete frasi che mi hanno fatto onestamente accaponare la pelle, mi hanno fatto preoccupare. Perché arrivare a dire che se il Presidente del Consiglio non si esprime sulla questione di H. Laurenza ci saranno qualcuno, un individuo che poi penserà di farsi giustizia da solo, secondo me deve molto preoccupare questa frase. Perché A. Uno non si può fare giustizia da solo. B. La superiorità morale della sinistra non può continuare a perseverare anche oggi che governo alla mano e fatti concreti alla mano che lei ha appena finito di citare ma di cui ancora non stiamo parlando, perché noi da 15 minuti stiamo parlando di un fatto che tutto il centro-destra ha già stigmatizzato. Allora, perché la sinistra non si mette non sulla propaganda, non strumentalmente, ad attaccare questo governo che ci sta sui fatti, su quello che abbiamo dato o non dato. Allora, mi chiede l'intervento Magliari, immagino sia per stigmatizzare l'orrore di la calarenza. No, 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 sul Parlamento europeo. No, no, aspetti, aspetti. No, un attimo, devo dire una cosa perché... Aspetti, 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 gliela faccio dire sicuramente. Ma Meli, dice Bersani, attenzione che è l'origine di questa destra politica che porta comportamenti. Allora, c'è un tema di cui si è molto discusso, l'abbiamo già fatto anche nella prima parte della trasmissione. La trasmissione di Rai 3 Report ha descritto in un servizio il fatto che il padre di Giorgia Meloni, e un dato acclarato che trasportasse droga dalla Spagna, e lei ha sempre segnalato, io non ho parlato a mio padre quando avevo 13 anni, fosse al servizio di un capo camorra. Questo fatto ha creato naturalmente molte critiche a destra e la sorella di Giorgia Meloni, Arianna Meloni, ha risposto così a chi la intervistava. Salve, ho già parlato prima. Ho raccontato che suo padre, Franco Meloni, chiedo scusa, trasportava marijuana per Michele Senese, il boss... Come fa a risultarmi se le ho detto che non lo vedo da quando avevo 13 anni, mi perdoni. Grazie e buonasera. Allora, Mameli, l'atteggiamento nei confronti delle critiche, l'atteggiamento nei confronti dei giornalisti, è un tratto che può qualificare questa destra di governo? Ma certo, sono allergici alle critiche. Si potevano criticare, giustamente, tutti i governi di centro-sinistra, ed era una politica normale. Il governo di centro-destra non si può attaccare. Tant'è che la Presidente del Consiglio si fa intervistare dai suoi amici, non dai giornalisti. Ma se lo stesso Ranucci ha detto che la Meloni non c'entra nulla, ma di che state parlando? Ma di che sta parlando? La conferenza stampa di fine anno. Ma si spegni di che sta parlando? Ma non è possibile. Col turicolo! Floris, a volte non riesco agli amici. Allora, diceva, nella conferenza stampa di inizio anno... La conferenza stampa di fine anno si è fatta intervistare soprattutto da giornalisti compiacenti, perché non accetta le critiche, è allergica alle critiche. Allora, io ritengo che là sia la struttura come funzionale, cioè uno può fare una domanda ma non può rintervenire, questo favorisce sempre l'intervistato. La conferenza stampa è 40 domande. Bersani, Ronzulli, sono tutte 40 domande, una diversa dall'altra. Non è che se uno dice una bugia non gli può dire no. Ha ragione. Aspetti, aspetti Ronzulli. Seguiamo un ordine in cui parliamo tutti. Bersani, è l'atteggiamento verso la diversità, intesa come critica o come domanda, un tratto di questo governo? Bersani, Ronzulli... Intanto vorrei dire, stiamo attenti a minimizzare, noi conosciamo la storia di questo paese, questi hanno assaltato la sede della CGL. Certo, e noi abbiamo difeso la CGL. Il ministro degli interni, mi lasci dire, il ministro degli interni, io sto dicendo la verità, il ministro degli interni, lui stesso ha presentato i dati della moltiplicazione nell'ultimo anno delle pratiche, diciamo, delle scritte, delle maessioni, delle fenomeni di antisemitismo. Sì. Allora, attenzione, io ve lo dico senza polemica. In tutta Europa. Non sottovalutiamo. Non lo facciamo. Il fatto, che ragione ho torto, non lo so, ma in questa nuova situazione si sentono sdoganate delle pulsioni, non sottovalutatelo, che siamo in Stato. La prego di essere breve perché abbiamo un intervento anche a Magliaro. Prego. Prego di essere breve, ma quanto guadagnerebbe questo Paese in termini di contenuti, di confronto e anche di crescita se l'opposizione decidesse di fare davvero l'opposizione sui fatti concreti e non sul papà della Meloni? Perché che l'opposizione possa dire, e credo anche legittimamente, che questo governo, secondo loro, non ha aiutato le classi sociali più basse, non ha aiutato le bollette, non ha abbassato la benzina, una serie di cose che poi ognuno ovviamente pone dall'altra parte e evidentemente potrà dire che non è così, ma sui contenuti. A me di sentir parlare che il problema adesso del centrodestra di questo governo è un uomo che il Presidente del Consiglio ha di fatto, diciamocelo, rinnegato più di 30 anni fa e vuol dire che non hanno argomenti per continuare a contrastare questo governo. 30 anni fa ne aveva 17 e diceva che era un grande statista, però insomma le intende col male assoluto, no? No, io parlo del papà della Meloni. Ah, il padre è stato rinnegato più di 30 anni fa. Cioè io ho sentito che l'unica critica viene fatta, questo governo agisce così perché è il padre della Meloni. Se gli argomenti sono il papà della Meloni, vuol dire due cose, o che la sinistra non ha argomenti o che noi stiamo facendo fin troppo bene e quindi non hanno argomenti. Magliaro, sarà quello. Sarà la seconda, vero? Allora, che fate troppo bene. Vorrei ricordare dopo questa inesima cortina fumogena su tutto quello che è di saluti romani a Calarenzi, eccetera, che in Italia è da 47 anni che si fa a Calarenzi, a tutti gli anni nella stessa maniera, addirittura con maggiore quantità di persone, ci sono stati oltre 40 governi in questi 47 anni in Italia. questo è il primo governo governato da una persona di destra e tutto questo casino, scusate il termine, lo si fa adesso. In 47 anni non si è mai fatto, si è lasciato andare. In Parlamento Europeo è la seconda volta che il Parlamento Europeo si occupa dell'avanzata del fascismo, l'ha fatto l'ultima volta nel 2019. E ha fatto inviti, auspici, non ha preso nessuna misura perché al di là delle parole non c'era nulla di concreto, cioè il dargli al fascista, il fascismo alle porte, eccetera, non esiste. Versani, secco. Dunque, io penso... adesso vediamo il 25 aprile, no? Cosa succede? Certo. No, perché siamo... Gli esami non finiscono mai. Ma insomma... Qual primo maggio... No, possono finire subito. Sarebbe auspicabile che si vissero. Possono finire subito. Ecco, dopodiché, io ho detto prima, non ho mai parlato di fascismo, ho sempre parlato di cultura politica, no? Sì, sì, è vero, vero. E quindi c'è anche un'ideologia, una cosa che però, e arrivo lì, sta diventando propaganda vacua perché i poveri sono quelli che stanno sul divano, ma intanto la povertà assoluta e relativa sta aumentando, non bastano i divani. Come stanno aumentando l'occupazione? La patria e la famiglia, ma la famiglia, ma si stanno aumentando l'IVA sui prodotti dell'infanzia, la patria, stiamo facendo l'autonomia differenziata, stiamo facendo un paese arlecchino, le banche sono quelle della sinistra, dovevamo mettere le tasse sui lessi e profitti e gli abbiamo fatto un regalo, la Fornero come da massacrare, l'abbiamo peggiorata, le frontiere e gli immigrati sono raddoppiati, fra l'altro sono aumentati i morti in mare, 2300, il punto è che a volte quelle ideologie lì portano a un'incapacità di tradurle in fatti e a una radicalizzazione di quelle pulsioni che diceva.